buonasera buonasera dal centro sportivo san rocco questa è la gold league e la terza giornata si affrontano chelsea e mignottingham quadre entrambe a tre punti il chelsea ha vinto con l'italia e ha una partita da recuperare con il cristal una vinta e una persa per il mignottingham che domenica scorsa ha battuto 2 a 0 i papponi con doppietta l'arnese e ha perso con i capros abbattuto nella tripletta di giannini sinatra i pari del mignottingham con aiello pascale e discardi all'altro lato con jacobo mario aiello e chiumeo con arnese a supporto del capitano d'alessio attenzione arnese viscardi dentro palladino per lecce che la tiene luca lecce e se la porta sul fondo da guano tra i pali invece del chelsea con scatola scalera e cece con palladino de falco a supporto di luca lecce pulizione per il celsi con palladino che calcia una traiettoria metà tra un tiro e un pallone al mezzo filippo aiello recupera su luca lecce e lancia nel vuoto alessio per arnese aiello si allarga dentro per arnese c'è da guano che fa buona guardia scatola evita la pressione di aiello c'è da alessio che però recupera da alessio da guano con i pugni ancora da alessio che se la porta fuori marco palladino per de falco intercetta chiumeo può ripartire da alessio dentro per arnese viscardi di testa la ributta dentro arnese aggancia in qualche modo grande aggancio del piccolo livello del videotipo anche calcia palla di poco alta persa la celsi arnese arnese numero da terra riparte è angolo anzi no è rimessa ci va a cece whisky uno contro uno va sul sinistro whisky da guano la blocca e va a lungo nel nulla nese semina il panico dentro per da alessio si propone aiello c'è anche chiumeo palla a metà strada aiello finta una bocca scatola che riparte aiello col piedone filippo aiello che calcia aiello un gol pazzesco 1 a 0 mignotti che hanno quindi ha fatto un gol da top filippo aiello per l'1 a 0 rosso nero costretto subito a seguire il celsi scatola le falco e spalla di lui contro piede migliotti da alessio per aiello finta la cialardese 2 a 0 mignotti un'altra volata rosso nera celsi non pervenuto attenzione al destro di palladino alla alta altro contro piedi mignotti veronica di chiumeo per jacopo aiello che perde un tempo di gioco supera però scatola ancora aiello contro due dall'altro aiello che con la sua l'avanza chiumeo di punta c'è pascale che esce altissimo e calcia centrale ma che mignotti in questi primi minuti attenzione arnese ancora che cornese che fa un gol pazzesco 3 a 0 ragazzi ma che cos'è il mignotti in campo ma che cos'è sono impazziti punizione mignotti in gamma che ha recuperato un altro pallone da whisky col sinistro con i pugni e spinge da guano jacopo mario c'è correnta della rimessa dentro ancora jacopo mario aiello in mezzo a due palla per d'alesso che calcia cercato un gol alla dico costa palla alta falco dentro palla dietro prova a imbastire un'azione la scuola del celsi di là da palladino che evita viscargli da terra chiumeo con un intervento prodigioso dentro per annese chiusura scatola lecce aiello con calma la solleva per jacopo mario aiello scelta non ottimale alla in curva qui ancora annese contro 3 allarga per aiello che non raggiunge il pallone rimessa blues con scatola a de falco lo chiude col corpo aiello e lo salta aiello finta che salta due va sul fondo cross calcio d'angolo ma che mignottingham il celsi è inesistente al momento calcio d'angolo per il mignottingham vai e lo morbido anzi arnese che mi corregge altro pallone riconquistato la viscardi che lo tiene c'è un fischio altro calcio di punizione per il mignottingham parte viscardi barriera ancora viscardi viscardi con la punta nesce una suolata non impeccabile qui rischia pascale fassina con grande tranquillità di nuovo da viscardi che perde palla qui ripartenza palla dentro a cercare palladino cece con le mani da palladino dentro a cercare de falco che a vita lecce che aggancia dentro chiude aiello con la suola su de falco arnese se l'allunga vince comunque il contrasto non c'è nulla scatola da cece grande anticipo di viscardi qui che riparte è un treno sulla sinistra da alessio di prima per arnese sviluppa il mignottingham e si distende aiello accena un doppio passo arnese ancora daiello che è solo punta l'avversario dentro per arnese che liscia riparte il celsi ma che partita qui lecce sbaglia aiello dentro da guante le falco la tiene giù palla che raggiunge whisky non c'era nessun compagno riscardi col tacco da d'alessio che fa girare arnese dentro per aiello che palla chiude scatola con una buona diagonale la perlecce che la tiene pascale in chiusura rimessa blues palladino la recupera il massino chiumeo c'è aiello che calcia da guano con i pugni ancora aiello che viene dietro si ferma velo di arnese per chiumeo che arma il destro finta chiumeo da guano poi arnese la tripletta di che con arnese in verticale trova palladino da alessio da alessio la tiene palladino però e falco salta chiumeo dentro ancora per palladino che calcia palla alta ancora fa siano arnese che sempre costantemente solo lo chiude palladino aiello perde il contrasto con defalco ancora defalco lo chiude in angolo pascale aiello cerca l'altro aiello trova a me rimessa blues con scatola lungo guarda scatola e falco dentro c'è un fischio punizione celsi con defalco sul punto di battuta c'è folla in aria partene falco barriera poi aiello attenzione conclusione qui si ricomincia a lucale c'è col sinistro impegna passina 4 a 0 mignotica alla fine della prima frazione tripletta di arnese e gollo di filippo aiello calcio d'angolo con bottone che va dentro palla che arriva a palla a defalco che la spedisce in curva palla bottone prova vola fassina dentro vola bottone al terzo piano palla alta col fondo un mignotino fassina fa ricominciare cerca da alessio palla palla arriva da guano paladino di là la scatola per palladino defalco dentro ancora per palladino scatola ci arriva a scalera una calcia sul fondo altro pallone recuperato al mignotica parte aiello aiello converge finta sbaglia qui paladino lecce che può partire lecce rinviene viscardici aiello con l'esterno trova arnese la gancia male cece paladino in mezzo a tre guadagna un calcio di punizione bottone sul punto di battuta funzione per il celsi che deve necessariamente risollevarsi va bottone barriera c'è da guano palla dentro per lecce che solo luca lecce col destro defalco il muro incredibile si è divorato il 4 a 1 lecce può ripartire aiello da nei mario lotta arnese gamba alta riscardi chiude da alessio la tiene rinviene bottone pala alta la mette giù male scatola aiello la tiene in campo scatola dentro serve però chiumeo da alessio jacobo mario aiello che prova alla larga da alessio chiumeo cerca aiello che la tiene in campo nei mario si muove si fa chiudere però la scatola va lui stesso con le mani dentro arnese ancora arnese contro due dietro danni mario che la butta in falo laterale rimessa per l'arco scatola la tiene le falco pressato subito da aiello punizione verticale per ad alessio che la tiene lotta con cece ancora ad alessio e angolo la palla è uscita prima angolo rosso nero ricordiamo che sono in vantaggio per 4 a 0 i uomini di capitano ad alessio orfani questa sera del fratello paladino contro tutti paladino aiello ci mette il piede e fa un salvataggio miracoloso dall'altro aiello che converge dentro per arnese c'è da alessio solo in mezzo lo trova è la parata di da guano pazzesca chiumeo riconquista è calcia lecce col ginocchio di la squadre lunghe del falco ribattuto non la tiene in campo rimessa blusa scatola pressato immediatamente bottone che prova sul fondo arnese solissimo può avanzare punta alla porta finta arnese 5 a 0 poker di arnese ancora arnese da solo forse dovrebbero marcarlo dato che ha fatto quattro gol scale era dietro da bottone alla rischiosa qui non la sia in campo c'è fallo però bottone dentro fassino aggancio arnese splendido per aiello che può partire dentro per da alessio da guano ancora che è dentro con le mani tutto fermo è rimessa blues paladino si gira pascale poi whisky che guadagna un fallo laterale per da alessio di testa arnese paladino su di lui vantaggio chiumeo finta paladino recupera fallaccia qui di chiumeo dai dai palco in mezzo a due la tiene contro aiello defalco dentro cece pardon scatola recupera il mini ottingham lanciato da alessio di nuovo a cercare arnese che va col sinistro salva scalera riparte bottone finta su chiumeo scatola la cancia male col corpo aiello lecce pascale regge l'urto evita cece con un po' di fortuna pascale che sale per da alessio da alessio c'è il carnese dietro da chiumeo che calcia vola da guano angolo per il mini ottingham aiello dentro da alessio sul fondo paladino contro tutti paladino ti toglie il pallone arnese lotta aiello recupera aiello taglia il campo prova il tacco cece poi whisky in qualche modo lotta con cece che mette il corpo davanti palla scalera dietro a bottone da guano da guano la lunga per un all in the box che non c'è cascina fa buona guardia e lascia scorrere il pallone rancottiolo di whisky che calcia da guano vola paladino tronese ed ancora da guano che salva il celsi al c'è zero poi tutto fermo c'è fallo tre paratone di da guano che hanno evitato il collasso del celsi che questa sera non è pervenuto in campo qui defalco prova a fare qualcosa dietro a palladino bottone gli soffia il pallone chiumeo poi scatola si lotta la ottiene whisky che esce bene lotta con defalco che vince il contrasto a calcia fascina la guano dentro whisky fascina evita l'angolo si no quindi va defalco da lecce che converge cerca il sinistro fascina toglie le ragnatele dall'incrocio angolo brusa dentro pascale col piedone defalco dentro ancora per palladino che cerca la rovesciata la figurina panini rimessa aglielo con le mani arnese ancora aglielo dentro per jacomo bario aglielo contro piede vigliotti ma quattro contro uno aglielo chiude scalera si è divorato si è divorato il 6 a 0 il mignotino qui tutto fermo c'è un fischio punizione blues scalera per lecce in banda lecce scivola di togliere il pallone giumeo che avanza poi defalco col corpo fallo laterale rosso nero giumeo d'alessio gira al volo per arnese che aggancia in qualche modo cece spazza via pascale morbido di testa per whisky che la solleva scatola arnese la mette giù giumeo di nuovo dietro arnese aglielo 6 a 0 dominio mignotino paladino salta arnese dentro metà tra un tiro e un pallone a cercare il taglio inesistente di defalco sbaglia passina calcia palladino ci mette il piedone in angolo pascale palladino con le mani dentro defalco palladino va sul sinistro palladino d'alessio la tiene e lancia arnese che mette il piede cece col corpo malissimo da da guano carica carica anzi no retropassaggio volontario quindi punizione a due in area cioè arnese che può toccare il pallone per chiumeo o per wilkie va chiumeo altissima la tona di palladino dentro diagonale di filippo aiello con la suola ancora aiello rischia la tiene però col corpo anzi no palladino calcio di rigore una una ingenuità di aiello che ha cercato il numero e ha fatto fallo ma ovviamente capitano lecce dal dischetto luca lecce sei a uno pascalone serve whisky che carica il sinistro salva scalera poi lecce aggancia può partire luca lecce se la porta sul sinistro dentro per palladino che evita pascale non ha più la visuale della porta però dietro la scalera esce bellissimo whisky che partita del numero 7 c'è chiumeo da solo rinviene e fa una cosa spettacolare scatola ma defalco all'altra parte aiello defalco lievita tutti defalco dentro palladino sul forno incredibile incredibile cosa si è divorato marco palladino d'arnese sempre solo si prova col corpo lecce ancora arnese di la d'aglielo che ha tutto il tempo di controllare e si fa ipnotizzare da da guano poi chiumeo sciupa il 7 a 1 e finisce qui stravince il mignottingham e sale a 6 chiavi